allora luna è arrivata anche ad on floor allora ragazzi siamo arrivati ad on floor adesso vi faccio vedere il video che ho girato con la telecamera con diciamo praticamente la macchina e quindi vi faccio vedere tutto on floor dentro allora qua il periodo dell'estate non vi potete immaginare che cosa significa tutto è bellissimo ma è pieno di fiori da tutte le parti come tutti i paesi qui del della normandia e quindi è veramente straordinario da venire a visitare se vi trovasse a fare una una villeggiatura qui in queste zone della normandia quindi tuvi il true will queste zone qua mi conviene a fare questa questa camminata camminata poi nel periodo estivo e qua delle imbarcazioni che sono bellissime ci sta anche il porto non molto distante da qui c'è anche il porto dove partono le navi da crociera quindi veramente molto bello andare questo è il simbolo proprio di un flore veramente straordinario e poi c'è stato questa un flore molto grande allora ragazzi andiamo a mettere adesso il primo ristorantino che abbiamo visto perché ha preso la macchina proprio dove non si deve mettere e quindi dobbiamo cercare di cavarcela con la polizia che poi ho la carta di handicaffato elio e alla protesi quindi vuol darsi che ce la caveremo affiutati su tutte le garage ma dei viaggi iniziamo con un duo camembert e che verse show La macchina è stata spostata. Questa è la cagnolina buona. Cagnolini. ちょっと un po' pedo? Cagnolini. Cagnolo. Una bella parla. Buongiorno, Raminaman, Buongiorno, 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 Buongiorno. Buongiorno, 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 Buongiorno. Buongiorno, 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 Buongior quindi adesso vi faccio vedere il video bello faccio vedere quindi il video che andremo a girare con la telecamera gopro hero quindi andiamo a girare un po i veicoli di questo di questo home floor andiamo a vedere un po al suo interno com'è fatta allora più tardi poi ci sono maggiormente ristoranti e poi qualche negozio di souvenir e creazioni particolari delle vostre per le vostre case ma la però maggiormente qua proprio il corso di tutti i ristoranti tutto quello che vedete il ristorante quindi immaginate la sera nel periodo estivo come come è movimentato qua come bello e poi all'interno ci sono tanti night club eccetera bello un bellissimo posto un floor è veramente da venire a visitare allora a più tardi su tele garage mare viaggi ragazzi oggi vi mostro come montare la telecamera gopro hero sulla macchina ma è molto semplice basta prendere questo tipo di supporto che resiste fino a 250 chilometri orari quindi alzate ok posizionate la vostra telecamera pressate e chiudete con un click dopo di che alzate la vostra telecamera magari la posizionate un poco più e avvitate la vite e di gioco è fatto quindi adesso partiamo accendiamo ma in questo momento praticamente sta registrando già quindi a più tardi vi faccio vedere le immagini immagini con la telecamera applicata sopra al cofano della macchina e 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 Autore dei sorrisi